Paura per un bambino di 5 anni che è stato accompagnato all'ospedale Sant'Elia dopo aver inghiottito una moneta da 2 euro. Il piccolo era arrivato in Sicilia nei giorni scorsi dagli Stati Uniti insieme ai genitori. Il bambino è arrivato in ospedale con una salivazione abbondante ed è stato subito sottoposto a una serie di controlli da parte dei medici, i quali si sono resi conto che non c'erano problemi alle vie respiratorie, constatando però che la moneta si era fermata nella parte alta dell'esofago. A quel punto è stato disposto il trasferimento in elicottero all'ospedale dei bambini di Palermo, dove il piccolo verrà sottoposto all'intervento per rimuovere il corpo estraneo dall'esofago.